Sììììììììììììììììììììììììì! Quindi buon basket a tutti! Allora prima di cinema, pronti? Via? Via! responses! Vi siete voi? Vi siete? Vi salpetti. Vi salpetti. Pronti, via! Grazie a tutti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Allora, continuate a caricare Allora, continuate a caricare Adesso, il segno è il canale Prende il genetino E basta Davè per il progetto Adesso 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 Il 21 La parta 21 5 5 3 6 6 8 Quando lo mettiamo qui, quando lo mettiamo qui, dietro. Numero 11. Numero Numero Due Numero Numero Ghidro! Seguro! Sei! Ghiro! Vai e lìas! Ghiro! N6 Lussai sorrisi! Numero 6 Ghiro! 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì.